Prima di iniziare il video, ti ricordo di cliccare sul tasto iscriviti e di mettere un mi piace. Grazie! Totò Schillaci, l'eroe delle indimenticabili Notti Magiche di Italia 90, ci ha lasciati. Vorremmo poter dire che si tratta di una delle tante fake news, ma purtroppo è accaduto davvero. Il grande attaccante di Palermo, autore di gol storici, si è spento all'età di 59 anni nella sua città, lasciando un vuoto non solo nel calcio, ma anche nel mondo dell'informazione. Prima della sua morte, Schillaci aveva rilasciato delle dichiarazioni che ci toccano profondamente, perché tutti abbiamo sperato fino all'ultimo in una sua ripresa. Le sue parole, ora che la sua scomparsa è ufficiale, risuonano con ancora più forza. Il Corriere, dopo l'annuncio, ha voluto riproporre l'ultima intervista rilasciata da Totò a marzo 2023. In quell'occasione, il bomber, che si è spento a 59 anni, ha raccontato il momento in cui G. Lee fu diagnosticato il tumore al colon. Le sue parole furono «Mi è crollato il mondo addosso. Sono caduto in depressione. Avevo paura di non farcela. Ma tra morire e affrontare queste difficoltà, preferisco qualche problema in più». Oggi, riascoltare queste frasi dopo la sua tragica scomparsa provoca un brivido profondo. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e commenta.